Se volete un commento alle notizie della settimana non potete far finta di niente, non potete non andare sul sito www.informazionecattolica.it. Bacchettoni? Sicuramente, ma belli tosti. Intanto mi scuso per il ritardo, ma recupereremo i minuti subito dopo la pausa delle 14.30. Grazie per essere con noi al nostro editorialista Pietro Licciardi. Ciao Pietro! Ciao Semmi, grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Allora, inizio subito. Anche se il 18 aprile era tre giorni fa, vorrei aprire con un mio articolo dal titolo. Il 18 e non il 25 aprile è la data che tutti gli italiani dovrebbero ricordare. Eh sì, perché la sconfitta del fronte social comunista nell'elezione del 48 fu una vera, vittoria di popolo, mentre il 25 aprile, di cui si è appropriata ormai la sola sinistra, si è ormai caricato di troppa retorica. E non importa più a nessuno. Senza parlare del fatto che forse siamo gli unici al mondo ad aver fatto di una clamorosa sconfitta militare, l'inizio di una sudditanza che dura tutt'oggi una festa nazionale. Angelica Larosa invece ci parla di un episodio tenuto nascosto per ben 200 giorni dalla stampa allineata, ovvero lo stupro di una ragazzina avvenuto alla festa piddina dell'unità di Bologna da parte di uno straniero. Lascio immaginare a voi cosa quelle stesse testate o mertose ci avrebbero costruito sopra se lo stupro fosse avvenuto, diciamo, a Pontida durante un raduno della Lega e se fosse stato coperto o ignorato. Jacopo Coque ci ricorda che quando un paese accetta di uccidere i propri anziani o malati ci mette poco ad arrivare a garantire la morte per chiunque, anche i bambini, solo perché in condizioni di fragilità. Ebbene, questo è quanto sta per avvenire in Olanda, dove si fanno morire anche i minori ritenuti incurabili, che poi è la solita foglia di fico per nascondere la verità, ovvero l'eugenetica nazista. Questo sia un monito per noi italiani in cui i delinquenti pro morte non demordono e vorrebbero che l'eutanasia diventi legge anche da noi. Francesco Bellanti commemora il grande Albert Einstein, morto il 18 aprile 1955 a Princeton, ricordato per la sua teoria della relatività che gli ignoranti associano al relativismo. Tra l'altro uno dei maggiori diffusori della teoria einsteiniana fu un sacerdote, George Lamaitre. Ma soprattutto Einstein nel 1940 ebbe a riconoscere che «Solo la Chiesa ha fatto quadrato sul percorso della campagna di Hitler per la soppressione della verità. Non ho mai avuto in precedenza un interesse particolare per la Chiesa», ha detto ancora Einstein, «ma ora sento verso di essa una grande ammirazione, poiché la Chiesa sola ha avuto il coraggio e la perseveranza per difendere la verità intellettuale e la libertà morale. Mi trovo quindi costretto a confessare ciò che io un tempo disprezzavo, ora io lodo senza riservere». Ti fermo soltanto per un istante che abbiamo 30 secondi di pausa e poi torniamo ancora insieme per qualche minuto con le notizie di informazionecattolica.it. Fermi tutti! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E ridiamo subito la linea a Pietro Liciardi e Sammy Varini. Grazie alla regia di Milano, informazione preziosa, la controinformazione di informazionecattolica.it, facilmente recuperabile anche su Facebook. Ancora Pietro Liciardi, prego. Benissimo, allora riprendiamo con Angelica Larosa che dall'America ci dà una buona notizia, ovvero il crollo in borsa della birra Bud, dopo che a sponsorizzarla è stato chiamato un famoso trans. A quanto pare anche in America la gente comune ha le scatole piene della martellante campagna di indottrinamento LGBT, eccetera, eccetera, secondo la quale a dettare leggi oggi deve essere solo l'uno virgola qualcosa della popolazione occidentale. Daniele Trabucco e Filippo Borelli parlano della green economy e del green deal europeo che ci porteranno ad una decrescita che però sarà molto ma molto infelice. Prosegue infatti la marcia dei seguaci della religione gretina che sta condizionando anche l'attuale governo purtroppo. La marcia ci priverà delle nostre automobili e sproprierà di fatto moltissimi italiani della casa, ci costringerà a cibarci di vermi e insetti, insomma un delirio che non porterà benefici all'ambiente ma che ridurrà la nostra vita e quella dei nostri figli ad un inferno. E come ormai ci hanno abituato quest'Europa sedicente e democratica, guai a manifestare dubbi e perplessità. Sabrina Righetti segnala che i vescovi americani si sono coraggiosamente schierati con una nota pastorale sui limiti morali della manipolazione tecnologica del corpo umano. In essa una raccomandazione semplice, semplice e di buonsenso per i giovani che soffrono della cosiddetta disforia di genere, ovvero che sentono di appartenere ad un sesso diverso da quello loro assegnato dalla natura. La raccomandazione è semplicemente di aspettare, dato che l'80-95% di loro finisce per accettare spontaneamente il proprio sesso. Ma questo ovviamente non piace alla lobby LGBT eccetera eccetera e a chi ha costruito il proprio business sulle operazioni chirurgiche che rovinano per sempre la vita di tanti. Scusate. Chiudo ricordando il nostro nuovo blog di Geopolitica Quotidiana che si sta arricchendo di numerosi articoli e video che affrontano argomenti e aree del mondo ignorate e dei nostri media o le cui notizie sono affrontate in modo volgarmente propagandistico questa è sempre la primavera che è imperversa come ad esempio pensiamo alla guerra russo-ucraina ecco su Geopolitica Quotidiana ci occupiamo ad esempio di Armenia, Sud America, Libano, Siria e Cina con articoli e interviste semplici, dirette, veramente alla portata di tutti anzi segnalo subito l'intervista che è stata fatta a quattro esperti di geopolitica e relazioni internazionali su alcune questioni ancora poco chiarite della guerra russo-ucraina ad esempio perché nonostante in Donbass se le stessero dando di santa ragione da otto anni nessuno è intervenuto per impedire che si arrivasse ad una prevedibile guerra e poi l'ONU è veramente spacciata oltre al video integrale questa settimana la sintesi pubblicata pure su Informazione Cattolica dell'intervento di Mirko Campochiari e Silva Boltuc e con questo caro Semmi è tutto anche per questa settimana è come con raspino o senza raspino signori preziosa preziosa è l'informazione di informazionecattolica.it da cercare in rete, da cercare su Facebook, da meditare grazie Pietro Ricciardi, buon fine settimana grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori come sempre grazie a tutti grazie a tutti